Il primo giorno di lavoro per questa nuova squadra di Roma, questa mattina ci siamo ritrovati un po' per le presentazioni ufficiali, quest'anno è tutto nuovo dai giocatori, lo staff, i dirigenti e oggi pomeriggio cominciamo con gli allenamenti, con il pallone, il gruppo ovviamente inizia ancora a ranghi ridotti, abbiamo per il momento solamente 7 atleti e gli altri poi arriveranno più avanti quando avranno terminato i loro impegni con la nazionale, quindi si andrà così alla vigilia del campionato che quest'anno inizia il 10 di settembre, prevede 7 partite, poi dopo ci sarà una lunga pausa per consentire alle nazionali di andare in Giappone e di disputare i campionati del mondo, questo periodo qua, di qua a novembre ci servirà così come per le prime verifiche, per vedere un po' di far funzionare il tutto e poi alla pausa così tireremo un po' le somme, vedremo tutto quello che ha funzionato, quello che non ha funzionato e faremo tutte le correzioni del caso. Partiamo tutti con molto entusiasmo, l'entusiasmo è un po' quello che ci ha spinto tutti a venire qua a Roma, a cominciare da me, ma poi tutti i giocatori che hanno accettato di partecipare a questa avventura e anche se sappiamo che all'inizio ci saranno un po' di problemi, siamo qua pronti per affrontarli, per risolverli, io dovrò fare in modo di costruire, dare una mano a questo gruppo, diventare una squadra che possa esprimere un buon gioco e che sia piacevole così da presentare tutte le domeniche al pubblico che speriamo numeroso vorrà venire a vederci.